ciao ragazzi bentornati sul canale, dopo un sacco di tempo siamo tornati per portare avanti la serie dei video sul tip ping pong contro il mio fratello Stefano e oggi siamo qua per fare la rivincita di quel marzo 2020 quando io battei Stefano 11 a 9 su questo campo e che vinca il mettere sotto dentro c'è la di�� dele che dopo un sacco di come otto arrivare detto, estado trocato in manso 3-0, non ci credo dove ha toccato? 4-0 4-0 9-5-1 6-1 6-2 7-2 8-2, non ci credo! 9-2 10-2 10-3 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 11-4 10-5 9-0 10-7 11-8 12-13 hurtful 12-17 12-18 12-17 12-18 15-19 16-19